Calcio mercato del Pescara, tanti club su Cristian Tommasini, anche la Juve Stabia capolista del Girone C. Nelle prossime ore Mora potrebbe accettare la proposta della Virtus Verona. L'ex Pisa è nel mirino di diversi club di Serie C, Lucchese, Arzignano, Monopoli, Taranto, Prosesto, Carrarese. E in queste ultime ore il direttore sportivo Daniele Dellicarri è stato contattato anche dalla Juve Stabia capolista, come vi dicevo, del Girone C. Ad oggi non è affatto scontato come sembrava che Tommasini cambi maglia. Zeman infatti vorrebbe tenerlo anche se nell'ultima sfida di campionato con la Fermana il Boemo ha optato per l'ingresso in campo di Vergani che ha preso il posto di Cuppone. Riflessioni in corso da parte dell'attaccante e del suo agente Fabrizio Ferrari. Sempre in uscita hanno già salutato Manu Pineto e il secondo portiere Ciocci che via Cagliari andrà in prestito al Ponte d'Era. Le suddette operazioni saranno trattificate martedì 2 gennaio, giorno dell'apertura ufficiale della sessione invernale di calcio mercato. Nelle prossime ore l'esperto Mora potrebbe accettare la proposta della Virtus Verona che milita nel Girone A del campionato di Serie C. Intanto la squadra continua la preparazione in vista della sfida con la Juve Under 23 in programma domenica 7 gennaio sul neutro di Alessandria alle ore 14. Nella seduta mattutina hanno ripreso a correre Franchini e Arcornero, Ciclet per Pellacani reduce dall'intervento al menisco interno del ginocchio destro e il difensore sarà pronto verso la fine di gennaio.